GIMPA è un'azienda specializzata nella produzione di macchine agricole che offre un'ampia gamma di spietratrici. Disponiamo di macchine spietratrici con un sistema per la raccolta di pietre di varie dimensioni. La serie AC per pietre medie e grandi e la serie MIM per pietre piccole. La serie AC è disponibile in vari modelli per lavorare con trattori da 70 a 180 cavalli. Questo modello raccoglie le pietre tramite un rastrello spietratore, le solleva idraulicamente, mentre seleziona la terra e le deposita nel silo. Questo semplice meccanismo ci permette di raccogliere pietre del diametro di 8 cm come pietre di oltre 200 kg. Per svolgere il lavoro di questa macchina è consigliabile che il terreno sia preparato da un aratro ripuntatore. La scarica avviene idraulicamente e la capacità di carico, dipendendo dal modello, oscilla tra i 1500 e i 5000 kg. La scarica avviene idraulicamente e la scarica avviene idraulicamente e超 source delpoxia. La scarica avviene idraulicamente e la cosmo.